Fresca di 92esimo compleanno, la Iesina si regala tre punti di platino verso la salvezza diretta, battendo per 1-0 il Giulianova. Il dolce è in fondo alla gara per i Loncelli, che con un primo tempo ordinato e un secondo tempo arrembante, impiegano 87 minuti per far esplodere di gioia il Carotti, eroe di giornata a Cruz Pereira. Il Giulianova è salito a Iesi per strappare almeno un punto, ha giocato una partita a Gagliarda, ma l'aver abbassato troppo il proprio baricentro nella ripresa è stato fatale per i giallorossi. Mister Ciampelli deve rinunciare a Kevin Trudo e ridisegna la Iesina con Marco Villanova da falso 9 e Fra Cassini spostato sull'out di centrocampo. 4-4-2 per Mister Bolzan, che affida a Giordano Napolano il compito di inventare per le punte e manda inizialmente in panchina l'esperto Tozzi Borzoi. Arbitra il signor russo di Torre Annunziata. Si gioca con un clima quasi primaverile ed inizialmente i ritmi risultano essere piuttosto brandi. Il primo squillo è per i padroni di casa al quindicesimo, con uno spunto di Ricci sulla tre quarti, il furetto leoncello prova alla botta, il tiro è potente ma centrale controlla Pagliarini. Il Giulianova prova a prendere il controllo del centrocampo e al ventottesimo crea grattacapi alla difesa Iesina, con Di Paolo che defilato cerca la porta ma Anconetani risponde presente seppur con qualche affanno. Al trentasettesimo ghiotta occasione per la Iesina, con Villanova che in bello stile serve Iabre che calcia quasi a botta sicura, ma la palla dopo essere passata tra una selva di gambe viene fermata sulla linea. Davvero sfortunato il centrocampista Leoncello. Il primo tempo si chiude qui. Nel secondo tempo entra in campo tutt'altra Iesina, la palla gira più velocemente, gli esterni vengono cercati e trovati con puntualità e i biancorossi si mettono con costanza nella tre quarti avversaria. Al tredicesimo è clamorosa la palla gol per la Iesina. Cameruccio viene lanciato verso la porta, l'esterno biancorosso brucia tutti in velocità, resiste al contatto con il difensore ma a pochi metri dalla porta spara addosso a Pagliarini. Bella l'azione di Cameruccio ma davvero grave l'errore sottoporta. Si salva il Giulianova. Insistono i padroni di casa al ventunesimo spunto di barbetta a cercare al centro Villanova ma il nove Iesino manca all'impatto con il pallone. Un minuto dopo sempre Villanova prova a trovare la marcatura ma Pagliarini c'è. Al venticinquesimo Mr. Ciampelli richiama in panchina uno stanco Cameruccio ed entra Cruz Pereira. Il cambio sarà decisivo. Proprio il neo entrato Cruz Pereira al trentasettesimo fa partire una fiondata che non c'entra la porta di un non nulla. Davvero bella la conclusione del centravanti biancorosso. Cerca di respirare il Giulianova ed al quarantunesimo tenta addirittura il blitz con Morra ma il tiro non è granché e Anconetani blocca. Al quarantatreesimo quando il pareggio sembra cosa fatta la Iesina trova il gol vittoria con Cruz Pereira. Palla in area da sinistra Barbetta prova una sforbiciata che risulta essere maldestra ma sulla conclusione è pronto l'attaccante brasiliano e tocca la palla quel tanto che basta per beffare Pagliarini. Protesta il Giulianova per una presunta posizione di fuorigioco ma arbitro e assistente sono irremovibili. 1-0 Iesina. Davvero lesto e astuto Cruz Pereira che festeggia sotto la curva e la partita finisce qui. Vittoria dunque nel complesso meritata per la Iesina che ha disputato una seconda parte di gara con buona tecnica e tanto tanto cuore. Tre punti che fanno fare un bel balzo in classifica per la Iesina che consentirà ai Leoncelli di disputare il proseguo del campionato con maggior serenità. Il Giulianova può rammaricarsi per il gol subito soltanto nel finale di partita ma deve fare mea culpa per una seconda frazione di gioco giocata in modo troppo rinunciatario. Ribadisco il finale da Iesi. Iesina batte Giulianova 1-0.